Il gesto importante è quello di oggi, l'uscita dalla biblioteca come l'uscita dal carcere. La mostra in sé è un segno forte perché ci testimonia attimi di vita che hanno alle loro spalle tante sofferenze. E poi come diceva lei il fatto di aver portato fuori in piazza in mezzo alla gente queste testimonianze, questi attimi, questi fotogrammi dimostra la volontà di coinvolgere la società in questo problema, di farsene una ragione e di prendersi a cuore e prendersi cura di queste persone che hanno bisogno di tanta prossimità e di tanta solidarietà. C'era effettivamente tutta la città qui, c'era la chiesa, c'era l'amministrazione, c'era il mondo della cultura, c'era il mondo delle associazioni. Anche questo è un aspetto da sottolineare perché non è un'esperienza di parte ma si è voluto, almeno gli organizzatori hanno voluto coinvolgere oggi un po' tutte le espressioni della vita cittadina, dall'istituzione al volontariato. Questo è sicuramente un segno positivo e di speranza.